Allora lui che è più bravo di me si è preparata anche le slide io andrò molto a braccio e lo facciamo insieme perché ci siamo trovati affini nei nostri passatempi ovvero quello che non facciamo per lavoro comunque lo facciamo anche spesso come volontariato più vicino ok e come volontariato per unire l'utile al dilettevole facciamo giochi e nello specifico sorry devo inclinare ok ok nello specifico io mi sono fatto aiutare per fare un videogioco in realtà è un videogioco che abbiamo fatto insieme come team e l'obiettivo di questo videogioco era quello di far giocare bambini con disabilità per cui c'è stato presentato un problema dove un bambino che usa il puntatore oculare non ha possibilità di giocare con i suoi coetanei per cui questa cosa qui limitava molto il modo con cui gli altri coetanei si interfacciavano con lui perché non avevano un modo ho usato solamente gli occhi di testare le sue abilità o comunque di comprendere più approfonditamente anche che cosa lui sapesse fare mentre invece questi bambini hanno capacità paragonabili a quelle di chiunque altro hanno solamente una limitazione nei movimenti il fatto di poter fare un videogioco che mette insieme due bambini che hanno lo stesso obiettivo ma semplicemente usano device diversi per giocare fa sì che anche gli altri bambini capiscano che c'è comunque una voglia di giocare e ci sono delle competenze che possono essere espresse semplicemente hanno bisogno di un dispositivo che permetta loro di far vedere che anche loro risolvono puzzle anche loro si divertono facendo videogiochi nello specifico il videogioco utilizza un puntatore oculare in questo caso qui questo è un Tobi prodotto commerciale a volte si trova anche nei portatili di una certa fascia abbastanza alta già integrato alcuni videogiochi supportano l'utilizzo del puntatore oculare per dare effetti di luce in base a dove si guarda faccio un esempio di come si usa normalmente ovviamente se in un gioco di sparatutto in prima persona io sono dentro una stanza buia e i miei occhi vanno su una finestra tutta l'immagine diventerà oscura perché il mio occhio viene accecato dalla luce che entra dalla finestra e quindi per simulare questo effetto qui tutto lo schermo diventa scuro per qualche secondo se io invece sono in una stanza rimango fermo ma semplicemente con gli occhi guardo in un altro punto a mano a mano la mia visione tornerà perché sto guardando in una zona che non mi sta accecando questo era l'utilizzo che normalmente viene fatto dei puntatori oculari infatti non è entusiasmante come cosa però Tobi fa anche puntatori per i disabili la differenza dei puntatori per i disabili con fronte agli altri è che devono essere usabili per molto più tempo e visto che sparano in infrarosso e c'è un limite di legge per quanto radiazioni possiamo assorbire quegli altri sono molto più sensibili e possono essere usati per molte ore quelli invece per videogiochi dopo due ore potrebbero iniziare a seccare gli occhi adesso dico io così due ore ma diciamo che non sono certificati per lunghissime sessioni e fra l'altro comprare un Tobi per utilizzo da gioco non viola la licenza se lo usi per fare dei dispositivi medici per cui Tobi stessa ti dice non farlo io me ne sono un po' fregato ce ne siamo fregati tutti costava 200 euro con fronte all'altro che ne costa 5000 per l'obiettivo che avevamo noi andava benissimo il Tobi da 200 euro il videogioco è un videogioco, fra l'altro abbiamo qui anche diversi che hanno partecipato alla creazione di questo videogioco vedo Lamberto laggiù in fondo che ha collaborato all'organizzazione del team io mi sono occupato della programmazione e poi abbiamo delle altre ragazze che invece hanno fatto la parte degli asset vi faccio vedere un attimo il videogioco così poi quando lo descrivo ha più senso videogiochiaccessibili.rootclub.it giochiaccessibili.rootclub.it ok vi dicevo ci sono due personaggi abbiamo usato la storia di Peter perché si prestava in quanto c'è Trilly che vola e quindi è perfetta per essere comandata col puntatore oculare e c'è Peter invece che fa il personaggio più platform e che si muove a terra è un punto e clicca e Trilly deve andare a prendere degli oggetti e portarli a Peter per poter andare avanti nel gioco quindi parte dei puzzle li risolve Trilly e parte dei puzzle li risolve Peter vi faccio un esempio di una cosa che succede che abbiamo pensato di mettere nella storia e Peter perde l'abilità del volo perché viene colpito dalla nave di capitano Uncino con un raggio che ruba questa capacità e in un certo senso potremmo definire anche che è il caso in cui perde questa capacità precipita e precipita in un'isola galleggiante da cui lui non può uscire se non che grazie a Trilly che prende una fune da un'altra isola la porta verso Peter Peter la lega a un albero e da lì usando questa fune si sposta intanto che Peter usa questa fune per spostarsi dei mosconi danno fastidio a Peter e impediscono a lui di andare avanti è solamente Trilly che andando sopra Peter allontana i mosconi permette a lui di poter procedere quindi il gioco è sempre un continuo io aiuto te per fare una cosa e andiamo avanti insieme c'è una demo giocabile di questo qui che magari vi posso far vedere così al volo ma non volevo fermarmi troppo sul gioco di per sé ma più che altro sul motivo per cui queste cose qui le stiamo facendo allora ok ok in questo momento il puntatore oculare mando Trilly in alto destra senza mani mamma guarda ok e con il joystick l'altro giocatore si può spostare ok questo qui è un proof of concept che abbiamo fatto per vedere un po' come funzionava le dinamiche abbiamo diverse parti non è un gioco completo anzi stiamo cercando finanziamenti per poterlo completare perché noi siamo arrivati fino qui mettendoci del nostro ma è abbastanza complesso riuscire a finire tutto un videogioco per cui con i fondi adeguati pensiamo anche di portarlo avanti e di completarlo e metterlo effettivamente online non è un'idea di business anche perché l'idea proprio di base è che qui business non ce n'è ci sono pochissimi bambini per fortuna che hanno bisogno di questo tipo di giochi però comunque per loro appunto perché non c'è un business se non ci pensa qualcuno che ha le competenze per fare queste cose qui di fatto non ci saranno mai e qui rientro un po' il filone in cui mi aggancio al mio validissimo collega a cui passo un po' la palla per descrivere un po' più sistematicamente la cosa a te e come si chiamava la tua penso avessi la cartella già aperta ok aspetta che magari voglio si sente? allora nel mio caso invece abbiamo un caso studio con il programma che uso essenzialmente ogni giorno che è Mindtest e parleremo di due tipi diversi di accessibilità il primo è l'accessibilità linguistica posso prenderlo? così ok il primo è l'accessibilità linguistica ovvero le traduzioni e poi quella uditiva che vedremo tra poco e questo coniugato appunto tramite il programma che è Mindtest cos'è Mindtest in poche parole? è una piattaforma di gioco per fare videogiochi solitamente cubettosi non solo tipo Minecraft stiamo parlando di software libero Mindtest che tra l'altro tra circa un mese cambierà nome aggiungo finalmente iniziamo dall'accessibilità linguistica come tantissimi altri programmi lì fuori Mindtest è un programma che è localizzato e permette di cambiare lingua quindi si allaccia alla lingua di sistema quando io lo avvio e inoltre dato che come stavo spiegando all'inizio di cioè prima di questa presentazione io posso avviare io devo avviare i giochi che ho fatto con Mindtest da dentro Mindtest stesso ecco questi contenuti possono essere localizzati a sua volta cosa succede? che se io non so ho Mindtest in italiano e quel gioco supporta la lingua italiana automaticamente io vedrò il gioco in italiano e questo vale anche per i server ora non so se si legge ma in quel caso abbiamo una versione in inglese e dall'altra parte una versione in spagnolo c'è anche un errore siamo sullo stesso server e dato che questo contenuto è disponibile in entrambe le lingue io che ce l'ho in inglese lo vedrò in inglese io che ce l'ho in spagnolo lo vedrò in spagnolo e da dove arrivano questi contenuti? si possono scaricare direttamente da Mindtest e ve lo consiglio caldamente comunque Mindtest si allaccia a questa banca dati chiamata ContentDB dove chiunque può pubblicare contenuti mettere recensioni e via dicendo scaricarli direttamente da qui e via dicendo e una nuova funzionalità che è stata inserita da poco che io ho molto apprezzato a livello di accessibilità linguistica è stata che questi sono quattro pacchetti quattro contenuti in questo caso del sottoscritto per fare prima con l'esempio ecco come vedete sono nomi in inglese ma da poco oltre che tradurre ciò che è dentro ai giochi io posso tradurre anche come appaiono ancora prima di scaricarli e questo è molto importante perché qua dentro il livello di inglese che abbiamo è sicuramente più alto della media ma se prendiamo non so anche uno bimbo che ha dieci anni non ci possiamo aspettare che non so Compass capisca che è un falso amico che non vuole dire compasso e quindi perché spiegarglielo quando posso semplicemente tradurre il contenuto nel primo caso abbiamo il nome di una libreria quindi non aveva senso tradurla però ecco ho apprezzato molto questa cosa e inoltre quando noi apriamo un contenuto c'è una colonna di informazioni che è sulla destra e c'è la sezione ups c'è la sezione lingue che ci dice ok guarda questo contenuto è disponibile in inglese tedesco spagnolo ungherese e italiano in questo caso stiamo usando l'esempio della bussola come vedete in alto c'è scritto Magic Compass e parlando di contenuti ci spostiamo dall'accessibilità linguistica all'altra quindi a livello audio con questo contenuto che è una libreria che ho sviluppato qualche mese fa che si chiama Audio Lib ed è in generale una libreria che permette di gestire molto più facilmente rispetto alla versione integrata di Mindtest gli audio che siano effetti sonori tracce musicali o quello che è da dentro il codice quindi per esempio io in un file posso registrare tutti i suoni che mi servono e poi invocarli dove mi serve lungo il codice e posso anche mettere dei parametri che ora non staremo qua a guardare ha anche ampliato in verità ciò che si può fare rispetto a Mindtest e se noi prendiamo una di queste righe a caso vediamo che il primo parametro ci chiede il tipo di suono quindi sfx effetti sonori il secondo ci chiede il nome del file da cui attingere e il terzo ci chiede una descrizione testuale di quello che avviene nel file audio questo viene forzato essenzialmente se io provo ad omettere il terzo parametro quello che succede è questo ovvero mi dice cioè io gli faccio dire che la descrizione è obbligatoria per motivi di accessibilità e lasciamo che chiunque possa godersi i videogiochi ovviamente se non vogliono comunque mettere il parametro se mettono una stringa vuota io non posso o scrivono delle cose a caso io quello non lo posso controllare però è una sorta di incentivo per cercare di rendere accessibile l'audio per chi appunto ha problemi di udito è completamente sord eccetera eccetera questa cosa è utile non solo a livello di accessibilità ma banalmente anche in fase di debug mi sono accorto di un paio di errori in alcuni miei contenuti perché vedevo che mi appariva il pannello con la descrizione in gioco però l'audio non partiva e quindi c'era qualche problema e grazie a questo strumento io che non ho problemi di udito mi è comunque stato utile per risolvere delle problematiche inoltre a volte gioco con il muto perché non lo so mi stanno parlando o quello che è e grazie a questa funzione di nuovo anche se non ho problemi di udito io posso continuare a giocare con una certa immersione immersività nel contesto videoludico senza perdere davvero dei pacchetti di informazione infine è a mio avviso una cosa bella a livello creativo cioè io devo cercare di tradurre a livello testuale quello che sento che non è un esercizio banale secondo me può essere anche stimolante quindi ci sono vari vantaggi a mio avviso nel forzare diciamo un parametro simile e come si traduce questo ah no scusate e come attivo l'accessibilità che di base non è attiva o lo faccio via codice quindi senza richiedere interfacce né niente oppure con un oggettino che viene incluso nella mod che sono le impostazioni audio in generale dove posso poi dichiarare tipologie personalizzate come voci e notifiche c'è la spunta da mettere su accessibilità e una volta che io metto la spunta quello che succede è che io devo cambiare finestra perché non abbiamo capito perché non ci avviava i video da Libre Impress quindi guardate in basso a destra se lo apre non so perché stava andando ok quindi in questo caso io sto aprendo una cassa e lì in basso mi dice sia da dove viene il suono e che tipo di suono è i suoni non tutti sono di posizione non sono posizionali posso avere semplicemente faccio rivedere in caso delle colonne sonore che stanno bene riprodotte quindi non c'è davvero una posizione nel mondo di gioco e la cosa ancora più carina a mio avviso è che se noi prendiamo il concetto di accessibilità linguistica e quell'audio e li mescoliamo insieme quello che otteniamo non è altro che questo file quando si apre guardate sempre in basso a destra in questo caso ho tradotto ciò che sta venendo appunto mostrato in basso a destra e tornando alla nostra presentazione ok mettiamo che però non vi piaccia l'implementazione grafica benissimo la libreria vi permette tranquillamente di sovrascrivere quelle quattro funzioni che vengono invocate quando mi deve mostrare un qualcosa perché a vari giochi corrispondono vari tipi di implementazioni ci sono giochi che per l'accessibilità audio mettono non so delle icone altri che non so io voglio spostare l'interfaccia a sinistra voglio cambiare lo sfondo benissimo puoi farlo perché c'è una documentazione nella sezione accessibilità puoi divertirti più o meno perché la gestione dell'interfaccia non è al momento la cosa più simpatica su Mindtest però puoi farlo comunque e concludendo dove siamo ora quando appunto si parla di accessibilità su Mindtest ci sono ancora delle carenze per esempio penso ai filtri per persone daltoniche queste cose al momento non sono ancora implementate solo parzialmente implementabili però c'è tutta una discussione che sta avvenendo molto lentamente perché comunque è del 2020 sul nostro git che in questo caso è github su quella segnalazione lì tra l'altro ironia di tutto ciò parlando di accessibilità linguistica su github non ce l'hai quindi codberg ho tutta la vita mentre per quanto riguarda il sito di Mindtest che è un po' la pecca che abbiamo al momento il sito non è traducibile e questo crea uno scoglio immenso per quelle persone che appunto l'inglese non lo masticano bene o non lo masticano affatto anche se probabilmente capiscono dov'è il tasto download e sono a posto però comunque c'è anche per quella una segnalazione dove ha commentato niente un po' di meno che il direttore lì nell'angolo dato che si stava ipotizzando una riscrittura in ugo del sito per poi implementare una traduzione vera e propria quindi io ho finito non so se ci sono domande per una di due comunque il nostro obiettivo è quello di farvi pensare al fatto che quando scrivete non necessariamente videogiochi ma quando programmate ricordarvi anche che ci sono persone che percepiscono diversamente da noi suoni piuttosto che addirittura anche diversi problemi e quindi pensare un attimo se posso fare qualcosa se posso proporre magari che venga aggiunta una certa funzionalità che renderà il mio prodotto più accessibile diciamo che è uno sforzo leggero in più ma per andare in una direzione che fa secondo me una qualità del prodotto completamente diversa tra l'altro parlando proprio di queste differenze che magari neanche si vedono se siete persone dislessiche questa presentazione fa il caso vostro perché il carattere che è stato usato è Open Dislexic 3 e sono stati usati certi accorgimenti per esempio lo sfondo non è completamente bianco è un grigetto chiaro perché si è visto che persone che soffrono di dislessia fanno meno fatica a recepire le informazioni quando il contrasto bianco-nero non è puro quindi sono cose che se non ve l'avessi spiegate non ci avreste fatto neanche caso ma oltre che semplificare la vita per le persone dislessiche la semplifica in verità per chiunque penso alla presentazione ieri di Servizi Liberi che era tutta elencata con le iconcine quello a livello di accessibilità per dislessia è proprio ottimo nerd dell'accessibilità tutti quanti arruolati domande? arriva il microfono non so se avete già pensato che ve lo butto lì la modifica che avete fatto è molto 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 importante perché avendo una bella descrizione e soprattutto traducibile sia del gioco che degli eventuali plug-in eccetera questo apre la porta alle sintesi vocali che tra l'altro hanno dei vantaggi rispetto alla semplice traduzione da parte dei volontari dei file audio che si ha una coerenza su tutto il gioco e alle volte anzi spesso le sintesi se sono fatte bene sono migliori delle voci per cui questa cosa qua apre la porta a tutta una serie di vantaggi che pensateci se c'è bisogno di un'interfaccia ad implementarlo insomma questa cosa qua perché è veramente potente bella grazie bravi grazie sì infatti quando stavo progettando audiolib dove appunto l'accessibilità cioè non è che è stata aggiunta dopo quel parametro era lì dalla prima versione proprio alfa e avevo pensato però effettivamente se qualcuno poi mi va a sovrascrivere la libreria e mi mette solo delle icone a cosa serve poi la scritta però effettivamente il testo può servire perché ci sono certi giochi dove io ti posso riprodurre con la sintesi vocale quello che può essere appunto il non so lì c'era scritto source things magari ecco non lo vedi più a schermo però può essere appunto riprodotto da programmi di sintesi vocale e c'è anche una segnalazione su Mindtest non l'ho inclusa però esiste giuro nella repo principale che appunto cerca di trattare il tema della sintesi vocale onestamente penso siamo ancora un attimo cioè c'è ancora un po' da fare prima di arrivare lì però sono assolutamente cose che io personalmente vorrei vedere dentro al programma perché comunque permettono di rendere il gioco più accessibile per chiunque cioè giocare dovrebbe essere un po' un diritto universale per quello che mi riguarda e quindi quindi sì bene altre domande? una domanda veloce Alessandro un'idea completare il progetto sicuramente costerebbe parecchio però a volte piuttosto che venderlo che non sarebbe neanche tanto bello si potrebbe accettare qualche donazione eventualmente perché no oppure quanto costerebbe il progetto e poi fare questo giro indicativamente possiamo considerare intorno ai 40.000 euro considerando comunque che non è un prezzo di mercato per fare un prodotto del genere ma è comunque un prezzo che almeno permette di coprire le spese e donazioni sarebbero ben accette in realtà di fatto i collaboratori del progetto già hanno un piccolo fondo per il progetto che si rimpingua col tempo ogni volta che ce n'è l'occasione ancora non copre lo start nuovamente del rinnovo del progetto però sì sicuramente se ci fossero persone interessate anche a questo progetto qui si concretizzi nel nostro caso non c'è nessun interesse di guadagno l'interesse piuttosto è che la cosa vada in porto eventualmente avevamo valutato addirittura che se chi finanzia vuole comunque venderlo per noi sarebbe comunque ragionevole anche che fosse venduto non è un problema su questa cosa qui per noi l'importante è che esista la possibilità di avere questa cosa qui per cui siamo aperti a tutte le possibilità domande volo nessun'altra grazie mille grazie ancora e un applauso per Zugi e Davide C grazie a tutti grazie a tutti